Bentornati a Trame Raccontate Male. Oggi affrontiamo Un ballo in maschera, un'opera tratta da un libretto che si chiamava Gustave Troisiem di Eugene Scribd, una delle opere più belle di Verdi, però anche quest'opera ha alcune criticità nella trama. Vediamole. Un ballo in maschera è la storia di un uomo di potere che ha tutte le caratteristiche che ci immagineremmo in un uomo di potere. È leale, è empatico, è giusto. Trama. Siamo nel 1600, l'America del Nord è praticamente tutta una colonia inglese e Riccardo è il governatore del Massachusetts. E già fa ridere così. Riccardo è innamorato di Amelia, moglie del suo fido segretario Renato. Tra lui e la donna non c'è stato nulla. Riccardo non le ha mai neanche rivelato il suo amore per lei, tormentato dall'idea di tradire l'amicizia del fido Renato. Renato rifesce a Riccardo di un complotto per farlo fuori. Sa anche i nomi dei congiurati, ma Riccardo, invece che mandarli al patibolo come avrebbe fatto anche il più cialtrone dei governatori dell'epoca, fa il superiore e non li vuole neanche sapere. Quindi invece che preoccuparsi di quelli che avrebbero spedirlo al creatore, Riccardo si preoccupa della situazione giudiziale di tale Ulrica, una maga che si vuole condannare, a rogo direte voi, al bando, capirai. Convinto a dimostrare a tutti che Ulrica è solo una ciarlatana che in fondo non fa male a nessuno, comunica a tutto il mondo, cospiratori compresi, che quella sera si recherà da Ulrica per smascherarla, travestito da pescatore. Ovvero, ha un complotto per ucciderlo in atto e lui se ne va per fattocchiere. Ve la riporto ai giorni nostri. Immaginate che un presidente del consiglio venga informato dai servizi che c'è un complotto per eliminarlo. E immaginate che il presidente del consiglio non solo non voglia sapere assolutamente i nomi di quelli che stanno tramando alle sue spalle, ma rischi di essere ammazzato andando travestito da babbo natale a dimostrare che il mago Telma è un ciarlatano. Fila, no? Travestito, travestito quindi da pescatore, Riccardo si reca solo soletto da Ulrica, luogo dove quei disorganizzati dei cospiratori lo fanno arrivare sano e salvo, invece che tendergli un banalissimo agguatto e tagliargli la gola come sarebbe stato ragionevole fare. Ulrica, che nelle varie versioni o è una gitana o è un'afroamericana, anche se ha questo nome da vichinga, sta facendo il suo lavoro di maga. Predice il futuro, e come tutte le sue colleghe, fa le fatture, ma non ne emette. A un tale predice che presto avrà una promozione da Riccardo. Riccardo, che prima di smascherare Ulrica vuole divertirsi un po', mette nella tasca di questo tipo un foglio dove c'è scritto che viene promosso esattamente come aveva predetto la maga. Poi dovrete spiegarmi come ha fatto in pochi secondi a scrivere il foglio, con che cosa l'ha scritto, visto che i tempi usavano ancora le piume d'oca e i calamai. Vabbè, andiamo avanti. Anche Amelia si presenta da Ulrica e le chiede un rimedio per le sue pene d'amore. Anche lei infatti ama Riccardo e lo segue su Instagram, ma non gliel'ha mai detto. Non essendo ancora stato inventato il Lexotan, Ulrica dice ad Amelia di andare presso il cimitero a procurarsi una certa erba magica che fatica, che le darà sollievo, ma non le specifica se se la deve fumare. Arrivato il turno di Riccardo, Ulrica non riconosce in lui il governatore dello Stato. Signor Indovino! Signor Indovino! E lui? Chi è? Mico, cominciamo a bene a pensare. Gli fa però una profezia terribile. Verrà ucciso dal primo che gli stringerà la mano. Il primo a stringergli la mano è il fido a Renato, appena arrivato da Ulrica. Ricapitoliamo. Da Ulrica ci sono Renato, Amelia, Riccardo, l'inutile paggio Oscar, i cospiratori e un centinaio di presenti. Una festa molto riuscita. Amelia va in giro per cimiteri in cerca di erbe magiche come Panoramix. Incontra Riccardo e i due finalmente si professano amore reciproco. Prima che qualcosa di carnale possa scattare, arriva Renato ad avvisare Riccardo che i congiurati sono lì vicino e lo vogliono accoppare. Alla vista del marito, Amelia si copre il viso con un velo e quindi suo marito non la riconosce. Si impegna però a portarla al sicuro senza mai guardarla e senza rivolgerle la parola. Riccardo intanto per un'altra strada fugge anche lui al sicuro. I congiurati arrivano convinti di trovare Riccardo con la sua amante e con l'idea di fare la festa entrambi. Trovano invece Renato con una donna velata. E qui capiamo dove ha tratto ispirazione Magritte. Il velo però cade e Renato si trova davanti a sua moglie. I congiurati che sono sicuri che quella donna era l'amante di Riccardo sfottano talmente tanto Renato che questi decide di unirsi a loro per uccidere Riccardo. Renato più geloso di compare Alfio è deciso a lavare nel sangue l'onta subita. Riccardo nel frattempo ignaro di tutto e flagellato dai sensi di colpa nei confronti dell'amico che gli ha appena salvato la vita la notte precedente decide di far tornare in Inghilterra lui e Amelia così da evitare future tentazioni e non intromettersi più nel loro matrimonio. Si organizza un ballo in maschera quale migliore occasione per dei cospiratori col pugnale facile. Amelia riesce ad avvisare Riccardo che nel corso di quel ballo in maschera i cospiratori hanno deciso di ucciderlo ma Riccardo a cui la vita puzza partecipa ugualmente. Allora sei deficiente Dillo sono deficiente lo so Alla prima occasione Renato gli pianta un coltello nel corpo Riccardo confessa di aver amato Amelia ma di averne sempre rispettato l'onore e mostra a tutti il dispaccio di rimpatrio per Renato e per Amelia. Dopodiché Spira Se il video vi è piaciuto scrivetelo nei commenti lasciate un mi piace ma soprattutto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima trama raccontata male e noi ci vediamo